Musica Missione compiuta per l'Aquila che porta a casa tre punti preziosissimi al termine di una gara difficile primo tempo avaro di emozioni con i locali che chiudono tutti gli spazi agli ospiti e perdono al minuto 26 il loro uomo migliore cacciatore che deve lasciare il posto a Del Biondo la prima occasione è di marca ospite di Ruocco dopo la conclusione respinta da D'Amico serve D'Ercole il cui colpo di testa manca di poco lo specchio sempre protagonista D'Ercole al minuto 35 che conquista un calcio di punizione dai 25 metri lo stesso numero 7 si incarica della battuta che però si perde sopra la traversa senza impensierire D'Amico e il primo tempo praticamente si chiude qui con le azioni montate da Mario Giacchetti passiamo alla ripresa secondo minuto spunto di Di Ruocco sulla fascia sinistra che però non trova compagni di squadra pronti a raccogliere e all'ottavo minuto passa l'Aquila traversone dalla sinistra di Ponzi per la testa di Acosta che beffa l'incolpevole D'Amico per l'1-0 ancora l'Aquila ci prova a Palumbo questa volta da calcio di punizione dal vertice destra dell'area di rigore D'Amico si oppone minuto 17 percussione di Silvestri che serve certi ma la conclusione di quest'ultimo non inquadra lo specchio due minuti dopo i locali recriminano per un calcio di rigore sugli sviluppi di un calcio d'angolo ma il direttore di gara Cavacini non è della stessa opinione e al minuto 21 arriva il raddoppio D'Ercole sfonda sulla fascia e mette al centro per il neo entrato Tankulic che fa 2-0 il penne non ci sta e al minuto 26 ci prova con Rossi da calcio di punizione nessun problema per Falsano minuto 34 Sert impegna nuovamente il numero 1 ospite che si oppone alla conclusione dell'attaccante minuto 36 Rossi nuovamente impegna Falsano che si rifugge in calcio d'angolo al quarantesimo annullato un gol per fuorigioco a Cellucci e al minuto 42 l'ultima occasione della gara è di marca pennese del piondo ci prova ma la sua conclusione termina sopra la traversa Gianpaolo ritrova la panchina dopo la squalifica e si porta a casa tre punti preziosi in vista del big match di mercoledì contro il Cupello mister Gianpaolo ritrova la panchina dopo la squalifica ma la musica non cambia tre vittorie su altrettante partite è stato un primo tempo difficile poi nella ripresa siete riusciti a sbloccarle a portare a casa i tre punti fondamentali per questa classifica sì diciamo che anche se il primo tempo mi è piaciuta l'intensità la qualità della squadra perché faceva girare bene la palla però c'è da dire che il capistello scusi il penne si difendeva molto bene chiudeva un po' tutti gli spazi si sono messi 4-3 avevamo difficoltà un po' nel trovare lo spazio poi i ragazzi hanno continuato a giocare perché è venuta fuori la qualità poi quando i spazi si iniziano ad allungare è normale che abbiamo avuto più facilità per giocare e per vincere la partita Fabio Iodice è arrivata la prima sconfitta stagionale anche se nel primo tempo eravate riusciti a chiudere tutti gli spazi all'Aquila e a contenere abbastanza bene forse ha inciso anche l'infortunio di Cacciatore sulla gara? Sicuramente l'infortunio di Cacciatore ci ha penalizzato però la squadra ha fatto bene comunque quindi se andiamo a analizzare la partita forse l'Aquila è arrivata due volte in porta con due errori nostri quindi è normale che contro una squadra come l'Aquila la prima volta che sbagli rischi di prendere gol quindi è stato quello quindi la partita l'avamo lavorata così e secondo me la squadra ha fatto bene mi dispiace perché abbiamo dato tantissimo quindi adesso voglio rivedere il gol perché secondo me abbiamo fatto degli errori che non li dobbiamo fare però è andata così quindi ci teniamo la prestazione perché secondo me è stata una prestazione buona e già da mercoledì pensiamo alla prossima grazie grazie